Eccoci qua, siamo a bordo della Tesla, stiamo andando a 120 km l'ora e questo è il rumore di bordo praticamente c'è il rumore del rotolamento, lui è Tiziano Ciao mamma, sono la tele e si viaggia molto bene, abbiamo ancora 59% di batteria e si va, si viaggia facciamo un giro dell'abitacolo qua dietro ci sono i posti posteriori, un pochino sacrificati come altezza la seduta è abbastanza bassa, però si sta comodi la visibilità posteriore forse non è un granché ma c'è questo immenso display che ti permette di vedere dietro benissimo senza grossi problemi e adesso possiamo anche dirlo, a un certo punto possiamo anche raccontare stiamo andando a Roma all'anteprima di The Martian dove ci aspetta Samantha Cristoforetti, non è che aspetta noi aspetta quelli che sono stati invitati grazie a tutti